Nei prossimi giorni la Premier Meloni e il Sindaco Manfredi firmeranno l'accordo per Bagnoli. Ad annunciarlo il Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, al termine dell'incontro a porte chiuse con il primo cittadino che ricopre anche l'incarico di commissario del sito di interesse nazionale Bagnoli Coroio. Se la firma arrivasse proprio alla vigilia delle elezioni europee in programma per l'8 e 9 giugno, potrebbe essere interpretata come uno sgarbo politico da parte di Manfredi, eletto dal campo largo PD 5 Stelle, al grande assente della giornata, il governatore Vincenzo De Luca, da tempo ormai rotta con il Ministro. Proprio pochi giorni fa, infatti, il Presidente della Regione era tornato all'attacco accusando l'esecutivo di aver sottratto 1,2 miliardi di finanziamenti per l'ex area Italsider ai fondi sviluppo e coesione. A margine del summit, la replica di Fitto, sono tutti fondi del governo, non c'è minimo dubbio su questo, sono fondi nazionali del bilancio dello Stato. In calzato dai giornalisti sui rapporti con Palazzo Santa Lucia, il Ministro ha poi preferito non alimentare polemiche. Diciamo, non ho alcun interesse e motivo di polemizzare con nessuno, quindi per me non c'è un problema. Certo, ascolto ripetutamente una serie di valutazioni, anche di carattere personale, su di me, che ascolto, alle quali non ho mai replicato né mai replicherò, perché io ho molto rispetto di chi ha un ruolo istituzionale. Dillo stesso avviso il sindaco, che dopo aver ribadito gli ottimi rapporti con il governo Meloni, ha risposto così. Credo che noi dobbiamo avere sempre un comportamento costruttivo, io l'ho detto dal primo giorno, quindi io su questo non tornerò mai indietro. Io penso che noi dobbiamo lavorare nell'interesse dei cittadini. Quindi noi dobbiamo essere sempre, come giustamente ha detto il Ministro, lavorare per realizzare cose, fare cose che servono, che servono alla città. Io in questo caso sono commissario di governo, quindi rispondo ovviamente a un rapporto col governo nazionale, però io sono il sindaco di Napoli e quindi devo tutelare gli interessi dei napoletani di questo territorio. E quindi io su questo vado avanti perché noi dobbiamo fare cose concrete.